Un ringraziamento ufficiale all'abito che è stata molto professionale, il nome? Lusi Lopez, animazione nuova da... Lusi Club, la voce è un po' bassa, giustamente qual è il sito vostro? Il vostro sito della società, www.cervia.it, si chiama diciamolo bene per chi vuole eventualmente avere l'animazione e usufruire la vostra professionalità, come si chiama la società? www.cervia.it, music club. music club, benissimo, e allora anche per dare un saluto a Fanelli al quale farei un applauso al comandante, dopo la finale si esige l'Ino d'Italia, parta! Ma quindi... D'Italia, l'Italia, l'Italia, se destra, e l'Eno di Dio, se vinta la testa, cuore la victoria, diventa la precisione, che diventa la visione, che diventa la vita, che diventa la vita, che diventa la vota!